un gol pazzesco amici di Sport Italia ben ritrovati nuovo appuntamento con Handball Mania ospite quest'oggi nei nostri studi una gloria della palamano nazionale non si offenderà certamente Franco Chionchio grazie per aver raccolto il nostro invito insomma curriculum importantissimo da atleta, da allenatore, da dirigente da consigliere federale insomma avrà modo e tempo quest'oggi per ripercorrere con noi quella che è una serie avvincente la serie di finale scudetto intanto saluto Matteo Aldamonte già pronto in postazione touch per dare un po' le giuste dritte in vista di un fine settimana che si preannuncia estremamente caldo interessante perché c'è gara 3 la finale possiamo tranquillamente definirla tale quella che assegnerà la partita che assegnerà il titolo italiano si giocherà ancora a Martina Franca e saranno ancora di fronte la Junior Raffasano e il Conversano vediamo il primo servizio si va a gara 3 sarà la bella di sabato prossimo ancora Martina Franca da assegnare lo scudetto della serie 1 maschile la Junior Raffasano pareggia i conti della serie contro il Conversano e vince nettamente il secondo atto del confronto lo fa la Palavoitila davanti a oltre 1500 spettatori reagendo nelle migliore dei modi alla sconfitta di gara 1 e imponendosi sul 26 a 18 esperienza grande concentrazione e prestazione strepitosa degli uomini di maggior affidabilità su tutti Rico Belli, Radovcic e Fovio nel successo costruito da Fasano combattuti in particolar modo i primi 30 minuti ma con gli uomini di Francesco Ancona comunque sempre avanti perfetta parità al 18esimo sul 6 a 6 al 21esimo primo time out della sfida lo chiama Fasano sul 7 a 7 è qui nel finale di tempo che la squadra bianco-azzurra piazza il primo a lungo andamento alla mano sarà anche quello decisivo Rico Belli sale in cattedra e regala giocate di assoluto pregio 13-10 all'intervallo lo stesso parziale dell'andata dopo i primi 30 minuti la ripresa però questa volta è sinonimo di intensità perfetta della junior che mai calerà di concentrazione al 36esimo il 14-11 un attimo dopo siamo al 40esimo segna Rico Belli per il 17-12 al 45esimo ingresso in capo e debutto in questa serie finale per Leal importante in vista di gara 3 ma che non impatterà su una partita che i suoi compagnano già ampiamente in stradato c'è spazio per una magia in sottomano di Radovcic per la standing ovation a Fovio nel cambio concedro e per gli applausi finali del pubblico fasanese vince la junior fasano 26-18 al Palavoitila si va a gara 3 dunque sabato prossimo ancora lì a Martina Franca in diretta su Sport Italia dalle 20.15 e in live streaming su Palamano TV sarà la finalissima sarà stavolta senza dubbi il sabato dello Scudetto non c'è possibilità di appello si decide tutto sabato Franco sabato la sfida decisiva per me qualche chiaro l'esperienza in queste partite conta tantissimo infatti si è visto qualcuno dice addirittura che conta più l'esperienza che il valore tecnico individuale ma più che il valore tecnico possiamo bilanciare col fattore fisico se hai la fisicità giusta per quella partita l'esperienza è fondamentale quindi il Conversano secondo me può contrastare sulla freschezza perché a livello di esperienza cede qualcosina al Fasano ecco il Conversano per quello che hai visto in gara 1 e in gara 2 ha a tuo avviso i mezzi tecnici per poter contrastare il Fasano che mi pare in crescita rispetto alla serie secondo me adesso chi è che ha tutto da perdere è il Fasano perché è la favorita tutto sommato il Conversano ha fatto un campionato strepitoso è stata la vera rivelazione perché tutti si aspettavano o Pressano o Bolzano o Fasano e Conversano si è trovata meritatamente a fare questa finale qualcosa del genere ha dichiarato anche Alessandro Tarafino al teme della partita provando in qualche modo ad allentare la naturale pressione sulla sua squadra e al tempo stesso caricare di pressione la Junior Fasano le interviste raccolte nella dopo partita di gara 2 Oggi sapevamo che era una partita dentro o fuori non abbiamo fatto nulla perché ora è 1-1 e sabato si ripete c'è 50% noi 50% loro e vediamo quello che succede Quanto ha contato in questa partita l'esperienza del passano l'abitudine a giocare partite così importanti? Sicuramente qualcosa in più sotto sto punto di vista ce l'abbiamo ma il conversano io ho sempre detto che è una squadra talmente organizzata talmente consapevole dei propri mezzi che sopperisce proprio con questa autorevolezza alla mancanza di esperienza Oggi hanno vinto direi meritatamente non c'è nessuna discussione su questo Sì allora chiaro 1-1 si fa la gara 3 anche perché ripeto per noi è già una grande cosa avere la possibilità di giocarci questa finale è chiaro che c'era il pensiero di chiuderla oggi la serie non sempre le ciambelle riescono col buco ora ci rimbocchiamo le maniche cerchiamo di tirare su un po' il morale perché anche loro ovviamente si aspettavano un finale differente però c'è un'altra partita da giocare ovviamente cercheremo di onorare il campo come sempre un tono un po' dimesso Tarafino si aspettava cose in più in gara 2 probabilmente sfruttare l'onda lunga del successo Alessandro in queste interviste mi è sembrato più un giocatore che l'allenatore era deluso perché quando si è sul campo appena si perde l'amarezza è chiaro che dopo ha avuto tutto il tempo per preparare la finale ripeto secondo me lui la può preparare più in tranquillità rispetto a Francesco Ancona perché adesso tutte le probabilità di vittoria vanno dalla parte di Fasano l'esperienza di Vito Fovio ne parlavamo a microfoni spenti insomma un portiere straordinario che riesce sempre ad incidere nell'economia di una partita ma sai quando si arriva a questa età sportiva diciamo con l'esperienza queste sono le partite che tu senti che contano che ti fanno venire fuori il meglio e se fisicamente Vito sta bene fa la differenza c'è poco da fare non si giocherà però soltanto a partire a Franca Matteo sabato esattamente perché se sabato si assegna lo scudetto sabato si assegna anche l'ultimo il quattordicesimo posto nella Serie A1 a girone unico del prossimo anno per andare a comporre quella che è la cartina appunto di questa massima serie si affrontano Uriago, Cologne e Fondi sul neutro di Borgosa Lorenzo in Toscana per decidere appunto chi tra queste tre avrà la possibilità di giocare nel girone unico della prossima stagione per un campionato che lo vediamo con la grafica ha già dato gran parte a questo punto dei suoi verdetti quella sulla destra è ovviamente la cartina in questo momento della Serie A1 maschile con Bolzano Pressano Bologna Cingoli Conversano Fasano che sono arrivate dopo la regular season direttamente al girone unico del prossimo anno la pool promozione ha visto salire Bressanone Trieste e Siracusa poi Gaeta Merano e Cassano Magniago che in ordine temporale sono le ultime invece che hanno ottenuto l'accesso al girone unico della prossima stagione che lo ricordiamo riporterà il campionato appunto a un gruppo limitato ristretto di 14 squadre il meglio della palla a mano italiana un solo posto a disposizione Cielo Derso intanto che ha ottenuto la promozione dalla 2 un solo posto a disposizione Oriago Padova Cologne e Fondi solo giocano nel prossimo fine settimana a Borgosalorenzo abbiamo il servizio per vedere quello che accadrà appunto a Borgosalorenzo sabato Merano Cassano Magnago e Gaeta sono le ultime tre formazioni in ordine temporale promosse nella Serie A1 maschile a girone unico del prossimo anno a deciderlo è il terzo turno dei play-out concluso con i match andati in archivio nella fine settimana nel sabato che porta la serie di finale a gara 3 sono le compagini altoatesina Lombarda e Laziale a fare festa ci saranno anche loro tra le 14 al via il primo settembre nella nuova Serie A1 decisivi almeno in due casi su tre i 60 minuti di ritorno in confronti che erano ancora del tutto aperti c'è chi una mano sul pass per la promozione in verità ce l'aveva già messa i diavoli neri del Merano partivano dal più 10 dell'andata contro l'Oriago Padova battuto anche a domicilio in trasferta con un 23-21 che basta per portare gli uomini di Jurgen Prantner dritti nell'elite della palla a mano italiana come i meranesi arriva dal Gironea anche il Cassano Magnaco che ha il play-out supera l'esame Cologna nel derby Lombardo sfida combattuta quella in casa dei Franciacortini che la squadra di Davide Kolec vince 21-18 difendendo il più 1 del primo atto e confermando un percorso di crescita avviato al termine della regular season e concluso anche senza fantinato con la festa finale nella partita più attesa un posto questo ottenuto con merito anche dalla Gaeta arrivato dalla pool play-out e capace al terzo turno di eliminare i cugini del fondi reduci invece dalla pool promozione un pareggio sabato sera 19-19 dopo il 30-26 dell'andata che significa gioia per i ragazzi di Salvatore Onelli ora resta una promozione soltanto da assegnare e alla quale ambiscono Cologni e Oriago Padova e Fondi una contro l'altra nello spareggio delle 25-26 e 27 maggio sul neutro di Borgo San Lorenzo allora intanto un tributo alle squadre che hanno centrato l'obiettivo vale a dire il Cassano Magnago il Gaeta il Merano pronostici rispettati a tuo avviso Franco sì il Merano già nella partita d'andata ha messo le basi per passare il turno molto più complicato è stato sia il derby Lombardo che Gaeta Fondi è stato la sorpresa secondo me è stato più il Cassano perché ha vinto solo di uno in casa il Colonia secondo me sarà sicuramente protagonista ecco perché ora si affrontano le perdere sì io penso se la giocheranno Colonia e Fondi il Padova ha fatto un ottimo campionato però verso la fine ha tirato il remi in barca Colonia e Fondi secondo me sono Fondi più esperienza è stata è sempre gli manca sempre qualcosa per ottenere il risultato però in questo momento l'esperienza pende da sua parte mentre il Colonia è allenata da Cocuz fisicamente i ragazzi li vedo sono più giovani li vedo molto bene quindi tra loro due ecco quanto è importante per te che sei insomma una una colonna della Pallamano Italiana lo sei stato per tanti anni il ritorno al massimo campionato girone unico ma io l'ho sempre sostenuto anche in tempi non sospetti per me il campionato il primo campionato deve essere girone unico punto perché sono le scuole più forti se non ci sono disponibilità economica degli altri non lo fanno ma il campionato di una federazione deve essere girone unico si affrontano le migliori e anche i campionati a seguire di A2 e di B si rialzeranno sicuramente di livello perché sinceramente era impensabile fare una serie A con 27 squadre non succede nemmeno nel calcio assolutamente sì senti però all'appello manca una squadra di Teramo Teramo che è una delle città storiche della palla a mano italiana manca all'appello beh ci ha provato la Lions a rimanere ha superato il primo turno il secondo ha incontrato forse la squadra più forte del raggruppamento il Merano come si è visto ha fatto man bassa di altri risultati adesso ci ritroviamo tutti e due nella stessa città io spero che ecco cosa bisogna fare perché la palla a mano Teramo possa ripartire ma ripartire ripartita perché c'è un bel movimento nel senso di alto livello adesso dobbiamo stiamo mettendo le basi è chiaro che il risultato non puoi ottenerlo io parto dal presupposto che devi costruire la base non puoi anche se economicamente in quell'anno ti ritrovi con delle disponibilità a comprare giocatori però se non costruisci sotto non noi adesso come NHC ci ritroviamo a fare le finali under 19 finali nazionali quindi è una grande soddisfazione per me per i ragazzi e l'80% di questi ragazzi fanno la 2 questa è la base è chiaro che se adesso trovo un po' di disponibilità metti qualche tassello e te la giochi per la 1 bene ci fermiamo ci fermiamo pochi istanti di pausa alcuni comunicativi commerciali poi ritorniamo di nuovo in studio abbiamo ancora tanti argomenti da trattare in compagnia di Franco Conchio e di Matteo D'Avonte sorridi riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018 visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi at federtennis.it oppure chiama il numero 06-87-15-3570 Brallo Serra Mazzoni Castel di Sangro Trabia Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile e con una grande novità da quest'anno ai centri estivi della FIT potrai scoprire anche la pallamano centri estivi FIT l'estate dentro di te Junior Fasano Conversano ai finali Scudetto della Serie A1 Maschino di pallamano è un grandissimo gol di Guido Rico Belli timing perfetto e questo è un gol pazzesco Gara 3 assegnerà il 49esimo scudetto nella storia della pallamano italiana momento di pallamano internazionale momento di Champions Matteo Damonte Sì perché il fine settimana prossimo è fondamentale importantissimo anche in Europa c'è la Final Four di Champions League si assegna il trofeo più ambito per club tre squadre francesi al Via oltre al Vardar che difende il titolo della passata stagione tre squadre francesi a testimonianza di una grandissima crescita non solo della nazionale francese che ha vinto tutto tantissime volte negli ultimi anni è cresciuto anche il campionato fino a portare addirittura tre squadre al momento più atteso della stagione abbiamo preparato qualche immagine per vedere respirare un po' l'area della Champions con le due semifinali che si giocheranno alle 15 e 15 il Paris Saint Germain scende in campo poi c'è il Vardar invece che alle ore 18 difende appunto il proprio titolo il titolo conquistato lo scorso anno in finale proprio contro il Paris Saint Germain con una vittoria di misura entrambe le gare saranno trasmesse in diretta per l'Italia da Eleven Sports il partner della federazione per quanto riguarda la Champions League e poi il giorno dopo alle ore 18 preceduto dalla finale terzo e quarto posto delle 15 e 15 ancora ci sarà invece la gara che assegnerà il primo posto la gara che assegnerà la Champions League c'è grande attesa non solo per le due grandi protagoniste il Vardar e il Paris Saint Germain occhio anche al Montpellier che ha fatto benissimo nel campionato francese piazzandosi addirittura davanti al Paris Saint Germain e che è guidato da Patrice Canaglie una squadra operaia come si suol dire che ha fatto davvero benissimo il Champions League fino ad arrivare alla Final Four a potersi giocare il titolo più ambito chissà se sarà la prima volta anche per il Paris Saint Germain il rammarico è vedere le squadre francesi a questo livello negli anni negli anni 80 noi eravamo allo stesso livello della Francia poi là c'è stato il decollo da parte dei francesi cosa è successo e cosa è successo poi dopo secondo me gli anni 80 sono stati decisivi a livello economico proprio del paese il governo francese ha dato un input molto importante allo sport nazionale e la Pallamano ne ha beneficiato un toto infatti già le Olimpiadi di Barcellona la Francia già erano nelle prime posizioni allora intanto mentre si lotta soprattutto nel settore maschile per l'ultimo atto quello che deciderà la squadra campione d'Italia comincia a muoversi qualcosa anche sul fronte mercato sia nel settore maschile che nel settore femminile già fermo da qualche settimana dopo la finale scudetto vinta da Sareno vediamo il servizio mentre Fasano e Conversano attendono di sfidarsi per Gara 3 che assegnerà lo scudetto di quest'anno nelle menti e nelle azioni di buona parte dei club della Pallamano italiana di vertice c'è già una prossima stagione che promette colpi di scena il mercato impazza modella i roster sembra destinato a cambiare gli equilibri almeno alcuni della Serie A1 versione 2018-2019 al momento le novità principali arrivano dal versante femminile le campionesse d'Italia di Salerno hanno salutato due pezzi pregiatissimi del proprio organico il tecnico Neverlupez salito sul tetto d'Italia la prima stagione nel nostro campionato e il portiere capitano della nazionale Monica Prunster che con la maglia del club campano ha vinto tutto tante volte per entrambi l'avventura all'orizzonte nella Superliga Polacca dove approderà anche un'altra italiana il pivot Bianca del Balzo che lascia Cassano Magnago e rimpinguerà la colonia delle azzurri all'estero una schiera quella delle giocatrici italiane oltre confine che porterà con sé qualche news già noto il passaggio di Anika Niederviser dal Turinger al Metzingen sempre in Bundesliga si aggiunge poi il trasferimento di Irene Fanton che lascia la Norvegia e si prepara ad iniziare l'avventura nella massima serie d'Ungheria dove vestirà la maglia del Moson Maghiarovar sempre in a 1 femminile cosa fatta il trasferimento di Vittoria Romeo all'Oderzo come ufficiale anche l'arrivo di Massimo Poderi nelle vesti di direttore sportivo della Benplast Dossobuono con la certezza di registrare alla corte del presidente Beghini nelle prossime settimane l'arrivo di più di qualche giocatrice sponda estense venendo alla massimo campionato maschile attenzioni sul campo e sui playoff in addirittura d'arrivo ma nel frattempo qualcosa si muove in particolar modo in Alto Adige Bressanone ha già ufficializzato l'arrivo di Sergio Diego Crespo terzino spagnolo reduce da un'ottima stagione d'esordio nel campionato italiano con la maglia di Trieste a qualche chilometro di distanza i medi altotesini danno per certo l'addio di Alessandro Fusina alla panchina di Bolzano dove dovrebbe aggiungersi alla lista dei partenti anche l'ala Zoballi Spagna e alla Balomano Benindorm la formazione di Alicante guidata dall'ex CT della nazionale italiana Zuppo Equison per il resto tante voci al momento a poche certezze tanti anche i pezzi pregiati Stefano Arcieri su tutti ma occhio anche ad altri due fattori due variabili da considerare i giocatori più di qualcuno rimasti fuori dalla massima serie nella lotteria dei play out e poi il capitolo legato al secondo straniero destinato ad aprire scenari nuovi in diverse realtà sarà un'estate rovente per una 1 che si preannuncia tra le più entusiasmanti degli ultimi anni dunque già tempo anche di pallamano mercato inevitabile in questi casi si muove già da tempo il settore femminile tra poco cominceranno a muoversi i grandi club del settore maschile da domenica da domenica da domenica io credo che qualcosa già si stia muovendo chiaramente ovviamente sotto traccia perché c'è una finale e quindi tanti giocatori che sono in qualche modo impegnati il secondo straniero anche questo è un elemento di novità per la prossima stagione ma io addirittura metterei senza senza limiti sì perché la la limitazione che è stata fatta in passato così si dava spazio ai giovani non è così perché solo giocando con giocatori più forti più bravi si acquisisce quella tecnica che è un'esperienza ricordo l'anno di conversano quando sono arrivati i migliori giocatori oppure i tempi quando io giocavo a Siracusa e venivano gli olimpionici delle altre nazioni tu da loro imparavi tantissimo la tattica l'allenarti in un certo modo perché io adesso ho una scuola giovanile diciamo non c'è una persona esperta loro non hanno un punto di riferimento non vedono giocatori forti da imitare quindi secondo me ben venga anche il terzo ben venga anche il terzo una parentesi sul settore femminile ci permette poi di chiudere con l'impegno della Nazionale Azzurra il doppio impegno perché settimana prossima le Azzurre saranno impegnate prima con la Polonia e poi con il Montenegro la vittoria di Salerno l'avevi già prevista in qualche modo fisiologica rispetto al trend stagionale beh ci poteva stare perché sono le due squadre più forti un pizzico di delusione è stato il conversano che vuoi per la forza del Salerno però mi sembra che ha mollato un po' troppo il divario io la vedevo un po' più equilibrata la partita ti aspetti una stagione al femminile un tantino più equilibrata? beh sì ma già i movimenti le squadre che sono salite le squadre che si rinforzeranno io penso che invece di giocarselo a due come è successo spero anche per il movimento di arrivare a 4-5 squadre soprattutto in prospettiva Azzurra doppio impegno due gare che dal punto di vista della classifica non hanno grandi significati quelli contro Polonia e Montenegro ma che potranno servire tanto alla preparazione per i giochi del Mediterraneo sì stimolante con squadre molto più dotate le ragazze sicuramente troveranno la voglia di lottare di far vedere che non meritavano degli scarti così ed è giusto come detto che è una buona preparazione per i giochi del Mediterraneo assolutamente sì Matteo qual è la roadmap delle Azzurre per le prossime settimane? l'Italia arriverà il prossimo 28 maggio a Montesilvano dove scenderà in campo per la prima volta è la prima volta di una nazionale azzurra al Palaroma di Montesilvano si torna in Abruzzo dopo quattro anni dall'ultima gara contro l'Islanda sempre femminile di qualificazione ai campionati mondiali il 31 maggio dunque Italia al Palaroma di Montesilvano alle 20.30 con diretta su Sport Italia affronta la Polonia poi trasferimento subito in Montenegro dove a Podgoriz affronteremo la formazione montenegrina che è quella che di fatto si prepara a vincere il girone subito a seguire inizierà la preparazione per i giochi del Mediterraneo dove l'Italia poi scenderà in campo la Spagna la Slovenia nel girone a 5 anche la Grecia il Portogallo queste sono le quattro avversarie delle azzurre passano il turno le prime due e sarà significativo capire anche in che modo arriveranno le azzurre all'appuntamento con i giochi del Mediterraneo chiaramente le azzurre e gli azzurri di Riccardo Trilini che probabilmente rispetto alle azzurre danno qualche certezza in più al momento intanto con il buon risultato fatto nei giochi del Mediterraneo in Turchia siamo stati come in seconda fascia non siamo in terza quindi il girone con Croazia e Algeria passano le prime due io penso che le possibilità per passare il turno ci sono ecco come giudichi dall'alto l'esperienza la nuova nazionale guidata da Riccardo Trilini anche sulla base delle gare viste a Bolzano che è un riferimento abbastanza la cosa positiva è che dà spazio a Riccardo di preparare per bene la squadra di fare tanti stage di fare tante amiche quelle sono fondamentali per il proseguo poi mi fa piacere che ci sono tanti ragazzi che io ho portato a suo tempo come esperti Stabellini anche Arcieri sono tutti ragazzi pronti ad aiutare più esperti è chiaro che Riccardo è appena arrivato i giochi di Mediterraneo sono un bel banco di prove perché ti mette nelle condizioni di lottare con squadre sulla carta abbordabile diciamo così certo soprattutto se poi le superpotenze non dovessero presentarsi come ci auguriamo di solito non presentano le under 23 però Croazia under 23 è sempre una signora squadra staremo a vedere staremo a vedere capiremo anche prossimamente con che squadre si presenteranno in assi di partenza ai giochi del Mediterraneo le principali competitor dell'Italia consigli per il prossimo decisamente serve una guida perché il palizzesto della settimana è davvero ricco vediamolo con l'aiuto della grafica per fissare i concetti sabato come detto c'è una vera e propria buffata di pallamano alle 15 e 15 e alle 18 le due semifinali di Champions League in diretta su Eleven Sports Nantes contro Paris Saint Germain e Vardar contro Montpellier poi l'attenzione si sposta tutta ovviamente su Junior Fasano conversano la gara che assegnerà lo scudetto della Serie 1 maschile 20 e 15 il fischio d'inizio su Sport Italia canale 60 del digitale terrestre 225 del Buche Sky con collegamento alle ore 20 per il prepartita domenica invece facile ore 18 Eleven Sports la finale di Champions League innanzi trapanese l'ex squadra di Michele Scatara esattamente l'ex squadra di Michele Scatara l'azzurro che il recente vincitore del campionato da Michele Scatara sì esatto con Ebner accoppiata a vincente accoppiata a vincente è giusto ricordare anche le imprese degli italiani all'estero grazie Franco grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione ci auguriamo di poterti ospitare con piacere grazie a Matteo Aldamonte grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione che ci avete prestato l'appuntamento con Endmonia sarà per giovedì prossimo andremo in onda a poche ore dal fischio d'inizio della gara che vedrà in campo a Montesilvano l'Italia e la Polonia per le gare di qualificazione agli europei femmini grazie per la cortese attenzione a risentirci un gol pazzesco un gol pazzesco